Ma ti rendi conto? Siamo ristati lì tre ore, in auto, col caldo, e nessuno camminava, niente. Ma... è da impazzire! Mi ha chiamato anche la mia ragazza durante il tragitto, non sapete cosa mi ha combinato, mi ha lavato i bianchi con i colorati, a 90 gradi, bianchi che sono diventati rovi. E non sai cosa ho dovuto pagare quest'anno di tasse? Gas aumentato, elettricità aumentata, imposte aumentate, dichiarazione di reddito aumentato. Eh? E a voi no? Oh! Oh!